Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti e benvenuti sul canale. Volevo fare anche un breve video, diciamo di aggiornamento, se così possiamo dire, per il caso della mostra di Sofia Stefani, la vigilessa rimasta vittima di questo colpo di pistola sparato da Giampiero Gualanti. Ora, a un certo punto, stanno emergendo delle novità, delle novità che consistono in queste voci che lei fosse incinta. Ora, ho letto da più parti anche smentite, nel senso che sembra che questo Giampiero Gualanti avesse avuto la confessione di Sofia che era incinta, però che fosse una cosa non vera, forse lei lo faceva come motivo di pressione psicologica verso di lui e lui dice che anche per questo motivo era andato fuori di testa, che era stressato, che aveva confessato tutto alla moglie e quindi la moglie aveva chiamato questa ragazza. Si stenta a credere che possa essere successa una cosa del genere perché, diciamo, c'è questa grossa differenza di età, ma sembra proprio che Sofia Stefani fosse effettivamente impaghita in una maniera credo parossistica perché sembra un po' un'alchimia al di fuori delle regole. Però, voglio dire, sapete, nella vita tutto è possibile, però fatto sta che il Giampiero Gualanti, a un certo punto, vittima forse delle sue debolezze e dello stress, quella pistola che aveva lì non era una pistola che stava lì in modo casuale, non era una pistola che lui stava pulendo per andare all'esercitazione, quindi è uscito fuori che non era vero niente. Quella pistola stava lì, evidentemente, per uccidere e quindi il procuratore è fortemente convinto di questa dinamica qui perché la ragazza quella mattina addirittura si scambiano tra di loro ben 15 telefonate e lei piomba lì nell'ufficio evidentemente per infarciargli delle cose, per dirgli delle cose, forse si pone anche in una maniera aggressiva. Bene, c'è la discussione indubbiamente, quella pistola non era lì in modo casuale, a un certo punto è esagionevole pensare, è esagionevole credere che il Giampiero Gualanti abbia affesato la pistola e la pistola è esploso, l'unico colpo fatale in pieno viso della ragazza. Ora, quindi è un atto ingiustificabile ovviamente, non si sa se c'è altro, non si sa se queste voci siano vere al cento per cento, forse qualcosa ancora sfugge alla dinamica perché questa ragazza era da molti anni fidanzata e nell'ambito familiare e lo stesso fidanzato dice di non essere accorrente di una storia d'amore, il fidanzato dice di essere accorrente di questa conoscenza con questo suo superiore, ma che assolutamente non era conoscenza di questa situazione a questo livello. Le amiche hanno fatto delle dichiarazioni un po' preoccupanti perché hanno assistito a delle chiamate, anche videochiamate, durante le quali esse sono state negativamente impressionate sia dal soggetto sia dal contenuto e sia dal fatto che alla fine di queste telefonate Sofia rimaneva sempre turbata, nervosa in qualche modo. Quindi non si sa la genesi di tutto perché alla fine era una conoscenza maturata nell'ultimo anno e mezzo più o meno. Poi le cose fra alti e bassi erano andate a finire male, sicuramente c'aveva qualche progetto, Sofia insomma aveva perso la testa per quest'uomo che magari avrà avuto sicuramente dei motivi, però è tutto strano. Non può essere, molti si chiedono se c'è altro dietro questa vicenda. E come è possibile pure che una persona che ha fatto il comandante della Polizia Municipale possa aspettare questa ragazza, ovviamente in difesa, con una pistola sul tavolo e poi usarla per sparare. Ma vi rendete conto con quale criterio poteva mai pensare poi di farla franca. Ecco, cioè di solito magari una persona che è uscita un'altra persona cerca di fare un piano, un progetto per cui pensa nella sua mente di poter sfuggire alla giustizia. In questo caso qui vedete come la mente umana a volte è delirante? È qualcosa che si svolge in un ufficio pubblico della Polizia Municipale, un colpo in pieno avviso? L'unica cosa è che lui dice è partito un colpo perché stava pulendo l'arma, cosa che non è vera. È stata certificata che l'arma era già pulita, era già stata fatta tutta e quindi lui cade banalmente su questa cosa. Poi alla fine poteva ben pensare che sarebbe venuto fuori tutti i messaggi, tutte le telefonate. Quindi non poteva essere come a me. A volte capita un colpo partito in modo accidentale. C'è molto di più. Quindi dispiace, dispiace ovviamente della terribile fine di questa ragazza e quindi chissà che la follia si sia scatenata nella mente di Giambiero Qualanti proprio da questa notizia che la ragazza fosse incinta che poi sembra anche una notizia non vera. Vi faremo sapere insomma se ci saranno degli sviluppi ma giusto per onore di verità perché comunque ancora una spiegazione su questo terribile omicidio non è chiaro. Quindi grazie, grazie che condividete il video dappertutto con i vostri amici su tutti i social e come dico sempre un abbraccio a tutti quanti voi.